Nel corso di un'intervista esclusiva ad Euronews, Gerghei Khorashani, nuovo sindaco di Budapest, promette cooperazione tra i partiti ed una città più verde. Alla domanda su come intende far coesistere l'ampia unione politica che lo ha portato al successo, risponde senza tentennamenti. Il candidato comune dell'opposizione per il sindaco della capitale non è stato trovato dai partiti, ma dal popolo di Budapest dice che un processo pre-elettorale in due turni ha portato ad un candidato d'opposizione congiunto, eletto direttamente dal popolo. Dato che questo è stato decretato dai voti popolari, durante la campagna ho sottolineato che non sono il candidato dell'opposizione, ma il candidato dei cittadini per contrastare la fazione al potere. Il suo programma verde è in linea con le idee di sviluppo dell'Unione Europea, tuttavia il sindaco ritiene che questo non sia l'unico punto per Budapest. La creazione di un'economia e di una società sostenibile è parte di un processo che darebbe impulso alla ripresa economica. Budapest è o può essere perdente nell'ambito del cambiamento climatico, ribadisce. Ecco perché dobbiamo avviare un processo affinché la città possa prendere parte alla battaglia per affrontare i cambiamenti climatici. Secondo Korashoni, le persone dovrebbero essere più coinvolte nel processo decisionale. L'intervista integrale al sindaco di Budapest andrà in onda in Global Conversation.